Perché conosciamo anche le famiglie mentre giochiamo, tu di loro che fanno dei lavori veri, tu invece sei un tiktoker, sei un tiktoker, faccio video di calcio principalmente per portieri. Su tiktok? Sì. E da grande vuoi fare il ministro? L'hanno capita a casa, non ti preoccupare. Vedrai che avremo notizie, avremo notizie. È troppo giovane, è troppo giovane. E poi vai in giro, capito? Fai tiktok con i salami, con le cose. E ti affaccia la finestra, cosa invidi di più ai tuoi vicini di casa? Se hai un garage grande e spazioso per una macchina bella, quindi... Quindi invidi ai tuoi vicini di casa il garage, la tettoia, la copertura per le macchine. Sì. Mi allontano da questa figura mitologica, il tiktoker. Più o meno lo sei anche te, li fai video. E mi costringono. No, ringrazio i social della sette, un gruppo di ragazzi e ragazze fantastiche. Claudia, Sara, Francesco, sono fantastici, giochiamo. E Ginger, è il mio socio Ginger. E... E...